Allora un motoraduno è sempre un momento di grande festa sia per la città che lo ospita che per quelli che vengono? Sempre, questa qui è la prima occasione che abbiamo di fare una cosa estiva internazionale grazie a Alexander siamo riusciti a fare una specie di salto di qualità, possiamo definirlo e siamo contenti perché abbiamo visto che il riscontro c'è sia da parte dei motociclisti stranieri che anche delle varie località che vengono contattate in questo giro Il motoraduno ha un tema, un motivo, è aperto a tutti, quali sono i termini? Motore e benzina, i termini sono da inizio sabato mattina e finisce martedì uno può partecipare a una o più giornate, serate a suo piacimento con qualsiasi veicolo due ruote possibilmente, anche sidecar, si chiama Giro delle Marche perché lo abbiamo abbinato al Giro dell'Umbria quindi faremo Giro delle Marche e Giro dell'Umbria Motociclisti da tutta Europa quindi attendiamo? Eh già, da tutta l'Europa, dal Belgio, Francia, della Repubblica Cieca, Slovacchia, da tutta l'Europa perché l'Italia dà tanto alla gente, è così Giro dell'Umbria che facciamo già tanti anni e la gente mi chiedeva dai facciamo qualcosa alle Marche, c'è un vicino che poi mi diceva eh prima di morire vorrei fare un motoraduno, conosco bene il Dragone e così abbiamo abbinato le forze, abbiamo fatto il primo Giro delle Marche Sì, come città di Fano abbiamo previsto anche una visita guidata in lingua inglese perché i gruppi verranno da tutta Europa e quindi domenica 5 inizieremo dal Teatro della Fortuna che ci è stato gentilmente aperto e poi proseguiremo nella Fano Romana quindi faremo vedere tutti la nostra città e poi abbiamo scelto di far sfogare una bellissima festa all'aeroporto che mi sembra il luogo ideale per fare musica e la cittadinanza quindi è invitata domenica 5 agosto alla sera all'aeroporto, è stato un evento che è nato dal basso sono stati i cittadini di Ponte Sasso che ce l'hanno chiesto, Evandro Sebattini insieme al Belga Alexander e abbiamo raccolto questa idea perché il Centro Sociale Sportivo di Ponte Sasso può ospitare anche questi eventi